Un'equazione omogenea di secondo grado in seno e coseno si presenta in questa forma. Notiamo l'assenza di termini noti, cioè numeri puri. Come detto poco fa, questo tipo di equazioni si possono risolvere a seconda dei valori dei coefficienti. In particolare, focalizziamo l'attenzione sui coefficienti dei termini di secondo grado, i valori a e c. Potremo distinguere due casi, a seconda che uno solo dei due sia uguale a zero o entrambi siano diversi da zero. Nel caso uno soltanto dei due sia uguale a zero, risolveremo l'equazione con un raccoglimento totale, sfruttando poi la legge di annullamento del prodotto. Se invece a e c sono entrambi diversi da zero, possiamo risolvere l'equazione dividendo tutti i suoi termini per coseno al quadrato. Poiché dobbiamo imporre questo termine diverso da zero, dobbiamo verificare se i valori che stiamo escludendo sono soluzioni dell'equazione. Il coseno è diverso da zero per x diverso da pi greca mezzi più k pi greca. E si verifica facilmente che queste non sono soluzioni dell'equazione di partenza. Allora la divisione è lecita e giungiamo ad un'equazione di secondo grado in tangente, piuttosto agevole da risolvere. Ma bando alle chiacchiere e vediamo tutto nella pratica. Vediamo il primo esercizio. Manca il termine in coseno al quadrato, quindi siamo nel caso in cui c è uguale a zero. Come detto prima, possiamo risolvere l'equazione con un raccoglimento. Raccogliamo seno di x ottenendo un prodotto di fattori. Per la legge di annullamento del prodotto, un prodotto è nullo se è nullo almeno uno dei suoi fattori. Possiamo allora scindere questo prodotto in due equazioni, che si risolvono in maniera indipendente. Riscriviamole e risolviamole. Per quanto riguarda la prima, equazione elementare in seno, dobbiamo trovare i valori per i quali il seno si annulla. Il seno, coordinata y dell'angolo individuato sulla circonferenza goniometrica, si annulla a zero e poi ogni 180 gradi. Questo può essere espresso tramite il termine k pi greca. È facile vedere come questa scrittura rappresenti, dando a k valori interi relativi, tutti gli angoli che partendo da zero si ottengono muovendosi di 180 gradi sulla circonferenza goniometrica. La seconda equazione è lineare e incompleta, e possiamo risolverla dividendo tutto per coseno di x, poiché i valori che lo annullano non sono soluzioni, e quindi possiamo imporre coseno di x diverso proprio da questi valori, senza correre il rischio di perderci soluzioni per strada. Seno su coseno è tangente, e allora otteniamo questa equazione elementare in tangente. La risolviamo portando l'uno al secondo membro cambiandolo di segno e poi sfruttando la formula risolutiva. In questa formula, alfa è l'angolo la cui tangente vale m. Quindi, dobbiamo chiederci per quali angoli la tangente vale 1. 1 è il valore della tangente a 45 gradi, pi greca quarti, e 225 gradi, 5 quarti pi greca. Di solito si sceglie il minore dei due, e allora possiamo dare ad alfa il valore pi greca quarti. Applicando la formula, otteniamo le soluzioni finali di questa equazione in tangente. Le soluzioni di queste due equazioni sono le soluzioni dell'equazione omogenea di partenza. Nel secondo esercizio, ad essere uguale a 0 è il termine in seno al quadrato, il termine A. Allora, come prima, risolviamo con un raccoglimento e sfruttando la legge di annullamento del prodotto, per ottenere due equazioni da risolvere indipendentemente. Riscriviamole e risolviamole. Nella prima dobbiamo indicare i valori per i quali il coseno è nullo. Il coseno è nullo a 90 gradi e poi ogni 180 gradi, e questo è esprimibile come pi greca mezzi più k pi greca. È importante ricordare come risolvere queste equazioni elementari, che sono la base per risolvere le equazioni omogenee di secondo grado. La seconda, equazione lineare incompleta, si risolve dividendo tutto per coseno, ottenendo un'equazione elementare in tangente. Per trovarne le soluzioni, ricaviamo la tangente e poi razionalizziamo, arrivando ad avere tangente di x uguale a radice di 3 su 3. Ricordiamo la formula risolutiva e chiediamoci per quale angolo la tangente ha questo valore. Questa funzione goniometrica vale radice di 3 su 3 a pi greca sesti, 30 gradi, e 7 sesti pi greca, 210 gradi. Per alfa scegliamo per convenzione il valore più piccolo. Allora possiamo esprimere in questo modo le soluzioni di questa equazione in tangente. Abbiamo allora trovato le soluzioni dell'equazione omogenea di partenza. Nel terzo esercizio l'equazione omogenea è completa. Allora, per risolverla, la dobbiamo trasformare in equazione in tangente, dividendo tutto per coseno al quadrato di x. Ricordiamo la formula che, dopo la divisione, ci permette di ottenere questo risultato. L'equazione adesso è di secondo grado in tangente. La possiamo risolvere come una normale equazione di secondo grado, sfruttando la formula risolutiva per trovare le soluzioni. Una volta trovate, saranno la base per risolvere delle equazioni elementari in tangente, che ci daranno i risultati finali dell'equazione. Facciamo le sostituzioni. Sotto radice, svolgendo i calcoli, otteniamo 8. Radice di 8 può essere espresso, sfruttando le proprietà dei radicali, come 2 radice di 2. Ora possiamo mettere in evidenza un 2 a numeratore e poi semplificarlo con quello a denominatore, per arrivare a scrivere la forma delle soluzioni dell'equazione di secondo grado in tangente. Come detto prima, ora dobbiamo risolvere due equazioni elementari in tangente. Queste si ottengono ugualiando la tangente di x alle soluzioni che abbiamo appena trovato. Per trovare le soluzioni di queste equazioni possiamo sfruttare la formula risolutiva, andando in cerca dell'angolo alfa. Poiché questi valori numerici non sono riconducibili facilmente ad angoli fondamentali, possiamo sfruttare anche la calcolatrice, utilizzando la funzione arcotangente, quella indicata sulla tastiera come tangente elevato meno 1. Dobbiamo stare attenti perché la calcolatrice dà i valori su un intervallo da meno 90 gradi a 90 gradi, quindi, in caso si ottenga un valore negativo, si deve sommare 180 gradi. Prendiamo il valore meno 1 meno radice di 2. Usando la calcolatrice otteniamo un angolo di meno 67,5 gradi. Sommando 180 gradi ci riportiamo a 112,5 gradi, 5 ottavi pi greca. Facendo questi ragionamenti otteniamo per l'angolo alfa questi risultati nelle due equazioni. Abbiamo convertito l'angolo in radianti, quindi abbiamo 5 ottavi pi greca e pi greca ottavi. Applicando le formule otteniamo questi risultati. Possiamo semplificare ulteriormente la forma dei risultati. Da cosa ce ne accorgiamo? Dal fatto che gli angoli 5 ottavi pi greca, 112,5 gradi, e pi greca ottavi, 22,5 gradi, sono distanti tra loro 90 gradi, pi greca mezzi, che è la metà del periodo delle soluzioni. Chiariamo meglio con un disegno. Data la circonferenza goniometrica, possiamo rappresentare le soluzioni della prima e della seconda equazione su un intervallo da 0 a 2 pi greca. Si nota come le soluzioni siano distanti tra loro un angolo retto. Per esempio, partendo da pi greca ottavi e muovendosi di pi greca mezzi, arriviamo a 5 ottavi pi greca, e via dicendo. Questo discorso ci permette di compattare le soluzioni scrivendole come pi greca ottavi più k pi greca mezzi, rendendo il risultato più elegante. Anche nel quarto esercizio l'equazione omogenea è completa. Allora ricordiamo le formule e trasformiamola in equazione di secondo grado in tangente. Come prima, la risolveremo per poi trovare le equazioni elementari in tangente che ci daranno le soluzioni definitive. Applichiamo la formula risolutiva facendo le sostituzioni. Svolgendo i calcoli sotto radice, otteniamo 9. E allora, poiché la radice di 9 è 3, possiamo scrivere l'espressione che ci darà le due soluzioni. Queste si ottengono facilmente dopo qualche calcolo. Ora possiamo scrivere le due equazioni in tangente, uguagliando i risultati che abbiamo appena trovato a questa funzione goniometrica. Ricordiamo la formula risolutiva e andiamo in cerca dell'angolo alfa. Nella prima equazione non esiste angolo notevole il cui valore della tangente sia 2, e anche la calcolatrice non ci aiuta a trovarne una sua espressione semplice. Allora dobbiamo usare la funzione inversa della tangente e dare ad alfa il valore di arco tangente di 2. Questo indica l'arco la cui tangente vale appunto 2. Ora possiamo usare la formula per esprimere il primo risultato. Nella seconda equazione dobbiamo cercare l'angolo il cui valore della tangente è meno 1. La tangente vale meno 1 a tre quarti pi greca, 135 gradi, e sette quarti pi greca, 315 gradi. Scegliamo il più piccolo dei due ed esprimiamo le soluzioni anche di questa seconda equazione elementare. Allora, le due che abbiamo trovato sono le soluzioni dell'equazione omogenea iniziale. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!